Musica Buongiorno, la prima edizione del nostro telegiornale, oggi 5 febbraio, festa di Sant'Agata, patrona di Catania, il capoluogo etneo si è fermato per onorare la sua patrona, in mattinata il pontificale, ma prima all'alba il rientro del busto reliquiario dal giro esterno, poi la solenne concelebrazione presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, nel pomeriggio il via al giro interno. Ma andiamo con ordine il primo dei nostri servizi che ci riassume la mattinata, Mario Grasso. Al rientro del fercolo di Sant'Agata, dal giro esterno, iniziato ieri mattina dopo la messa dell'Aurora, le lancette dell'orologio avevano già superato le 6 del mattino. Le 6 del mattino del 5 febbraio, il giorno di Sant'Agata, il giorno in cui tutta Catania si ferma in ossequio della celeste patrona, che ieri ha incontrato centinaia di migliaia di persone per le vie della città dell'elefante. Un bagno di folla, forse moltiplicato grazie anche alla clemenza del tempo, condizioni meteorologiche ben diverse da quelle odierne, che però non hanno di certo impedito il continuo afflusso di devoti e fedeli all'interno della maestosa cattedrale Agatina, per un omaggio devoto alla Santa Patrona prima del pontificale, che come norme di sicurezza prescrive non è stato seguito in chiesa da poco più di 3.000 fedeli, il che ha suscitato qualche mugugno tra i tanti rimasti alle porte. Il Vescovo Salvatore Cristina ha introdotto la Santa Messa, pontificale affidata quest'anno al Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, concelebrata dai Vescovi di Sicilia in presenza del già primate della Chiesa Siciliana, Cardinale Romeo Innanzi, alle autorità civili, militari e religiose, con in testa il Sindaco Salvopoliese, oltre che del Comitato per la Festa di Sant'Agata nella città di Catania, guidato da Riccardo Tomasello. Sandri ha sottolineato il valore della fede, intensa, genuina, che ha illuminato il percorso di vita e il martirio della Santa Protrettrice di Catania. Un percorso di giustizia, di legalità, ma anche di perdono attraverso l'impegno, la dedizione, un esempio di fortezza, di integrità, che la giovane Agata sostiene nelle scelte coraggiose, così come ella sostiene i giovani nelle scelte coraggiose che prendono per la propria vita. Per Sandri, Agata è fermezza nella fede e perseveranza contro le violenze, sebbene accetti la violenza del martirio. Si rimane colpiti, dice il Cardinale, nel leggere la vita di Sant'Agata, anche per il contesto in cui avvennero la persecuzione e il martirio. Ciò che anima il carnefice di Agata è infatti un desiderio religioso che però schiavizza, anche oggi, il recupero dei valori cristiani nella nostra Europa, dice, deve passare attraverso la vita e la testimonianza credibile nella preghiera. Porte aperte perché, dice ancora Sandri, nel volto dell'altro, anche straniero, possiamo sempre riconoscere il volto di Cristo che si fa incontro a noi. Il Cardinale che celebra il Pontificale è il prefetto della congregazione per le chiese orientali e non può non sottolineare il dramma che si consuma non lontano dalla Sicilia e Medio Oriente, in particolare in Siria e in Iraq. Ricorda pure attraverso la presenza di due vescovi provenienti dal Burkina Faso che da anni compartecipano ad alcuni progetti con la chiesa catanese, le stragi dei cristiani avvenute ad inizio dicembre 2019, alle quali si sommano le persistenti violenze e i rapimenti in Nigeria. Il ricordo corre poi veloce verso Pino Puglisi, che ha lottato per la liberazione dell'uomo e soprattutto delle giovani generazioni dai tentacoli delle organizzazioni malavitose, peraltro nel 14esimo anniversario dall'uccisione di Don Andrea Santoro. Adesso si guarda già al pomeriggio e più precisamente alle ore 17, quando dalla cattedrale muoverà la processione per l'inizio del giro interno del Fercolo, una tradizione che si ripeterà per le vie Caronda, poi Piazza Cavour, poi ancora via di San Giuliano, quindi la salita emozionante che porta sino in via Crociferi, dove innanzi la chiesa di San Benedetto, le moneche e benedettine intoneranno l'adorazione. Verso Sant'Agata poi il rientro da Piazza San Francesco d'Assisi e via Garibaldi, fino in Piazza Duomo, che domani potrà contenere un massimo di 9.000 persone, secondo quanto disposto dal piano di sicurezza, che per i fuochi del borgo dunque stanotte, prevede invece in Piazza Cavour una capienza massima di 10.000 persone. Un pomeriggio, una notte, ma anche il prossimo mattino, da vivere sotto l'unico segno, quello di Agata. Sin qui la mattinata, ma prima della celebrazione del pontificale, il Cardinale Sandri ai nostri microfoni ha detto la vita di Agata è per tutti noi un messaggio che mette in luce la dignità della donna. Ascoltiamolo. Il martirio di Agata fu crudele, attuato anche per disprezzare quella donna che usava opporsi alla gerarchia del tempo. Disprezzo, crudeltà, accade anche ai giorni nostri, tanti casi di femminicidio, che molti leggono come un vero e proprio martirio tra le mura domestiche, spesso, senza alcuna vergogna, contro chi è maggiormente indifeso. Eminenza, il martirio di Agata nel 2020, qualcuno lo paragona al femminicidio? Io sono molto lieto di essere oggi qui a Catania per questa celebrazione e nel mio cuore prego Sant'Agata che protegga tutte le donne, ma che soprattutto insegni a tutti noi al mondo di oggi il rispetto per la donna, il rispetto per la sua dignità, il rispetto per quelle che sono le mamme nelle nostre famiglie e seguendo l'esempio di Sant'Agata, tenere presente quello che fanno le donne per il mondo di oggi, nel mondo e nella Chiesa, e vedere questa ragazza, Agata, che è stata perseguitata, offesa, vituperata dal potere del mondo, sia esempio per il rispetto che noi dobbiamo portare oggi alle donne e per pensare come loro, con il loro esempio, possono trasformare il mondo. Attenzione, Sant'Agata è per tutti noi un messaggio che mette in luce la dignità della donna. Il Cardinale Sandri riprenderà il concetto anche nel Pontificale, chiedendo che Dio vegli su tutte le donne del mondo, su quelle che sono state violate nella loro dignità, alle mamme che piangono per i loro figli, alle spose abbandonate, alle tante donne che sono sfruttate o che buttano, dice proprio così, la propria esistenza, con scelte sconsiderate. Insomma, il ruolo della donna che si riscopre dunque anche nella festività di Sant'Agata, la donna che ha un ruolo centrale nella società, perché figlia, moglie, madre, compagna di vita, artefice del proprio destino economico, fulcro del tempo e nessuno mai, dice ancora il Cardinale, dovrà violare, nemmeno con una semplice canzone, la dignità della donna, con linguaggi volgari o che incitino alla violenza. E il pensiero non può non correre veloce. C'è i tanti testi di cui spesso si sente canticchiare un ritornello che nulla ha a che vedere con l'essere donna. E purtroppo non ci sono solo devoti che partecipano alla processione di Sant'Agata. I carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato un borseggiatore di 48 anni, Massimo Zuccarà, in via Umberto. I militari, infiltrandosi tra le numerosissime persone che attendevano il passaggio del Fercolo, hanno addocchiato l'uomo in via Musumeci, mentre si avvicinava agli astanti, osservando in particolare le borse delle donne, ponendosi in particolar modo alle spalle degli anziani. I carabinieri hanno visto il malvivente, mentre tentava di ispirare il portafogli ad un 64enne dalla tasca posteriore dei pantaloni. Per sua sfortuna, il malvivente, ignaro di essere sotto l'occhio dei carabinieri, è stato bloccato con il portamonete nelle mani e condotto nella caserma di Piazza Verga. L'area furtiva, 70 euro, carte di credito e documenti di identità, sono stati riconsegnati alla vittima che ha ringraziato i militari dell'arma. E sulla festa di Sant'Agata incombe il maltempo che, così come annunciato, è tornato. Raffiche di vento e piogge insisteranno sulla Sicilia fino a venerdì, quando, così come previsto dagli esperti, dovrebbe tornare a fare capolino il sole. Sentiamo Guenda Garozzo. Da 25 gradi centigradi registrati ieri nelle aree etnee del versante orientale, agli 8 gradi di questa mattina, sempre nelle stesse zone. Il brusco calotermico annunciato dagli esperti non si è fatto attendere. Puntualissimo è arrivato la notte scorsa, portando non solo le raffiche di vento alle falde del vulcano oltre i 70 km orari, ma anche pioggia, neve a basse quote e umidità con un tasso del 60%. Fiocchi bianchi sono caduti nei paesi di Pedara e Milo, precipitazioni sparse un po' ovunque. Le temperature miti a cui eravamo stati abituati sembrano essere soltanto un ricordo. Una situazione che non si è discostata molto da quelle registrate nel resto d'Italia, con una flessione del carico depressionario che ha portato bel tempo, sempre nei giorni scorsi. L'anticiclone però adesso sta muovendo verso nord e sta abbandonando, seppur solo per qualche giorno, la Sicilia. Eppure c'eravamo quasi abituati al sole tiepido che fino a ieri ha riscaldato le città siciliane. Un clima anomalo spalmato bene o male su tutta l'isola. Hanno rilevato gli esperti parlando di un assaggio anticipato di primavera, quello dei giorni scorsi, che però ha avuto un netto stop, seppur è bene precisarlo, limitato nel tempo. Il repentino cambio delle condizioni meteoclimatiche con venti freddi che stanno spazzando la penisola da nord a sud, determinando un tracollo termico, specie su Alpi, Appennini, regioni adriatiche e sud, dove si sono persi tra gli 8 e i 10 gradi centigradi già dalla mezzanotte scorsa. La rivederci al sole al prossimo weekend, quando la situazione tornerà a stabilizzarsi con un rialzo termico. Per adesso dovremmo accontentarci di massime non oltre i 12 gradi, quando il sole sarà allo zenith e di vento gelido che soffierà forte da prima da ponente, poi maestrale, tramontana e grecale, con raffiche insistenti al centro-sud e mari che rimarranno agitati almeno fino a domani. L'irruzione fredda sarà solo temporanea, già da dopo domani, venerdì 7 febbraio, nei giorni successivi, l'anticiclone dovrebbe tornare ad espandersi su tutta l'Italia, prima a partire dalle regioni centro-settentrionali, in seguito anche al sud, riportando un tempo stabile, ma soprattutto un nuovo inesorabile rialzo delle temperature, anche se non sui valori eccezionali dei giorni scorsi. Cambiamo argomento, si apre uno spiraglio per il Cabol Park di Acireale, la struttura, un grande parco acquatico per inadempienze progettuali su disposizione della magistratura venne sequestrata, adesso, una volta rimodulato il progetto, potrebbe essere rimodulata e ultimata entro un anno. Sentiamo Salvo Couturi. Per il Cabol Park di Acireale, nel territorio di Acireale, si apre uno spiraglio alla ripresa dei lavori e al completamento dell'opera, finita sotto sequestro e con lunghi strascichi giudiziari, sul mancato rispetto delle norme di edificazione degli immobili non conformi al progetto secondo i tecnici comunali che hanno intavolato con la società un lungo braccio di ferro, conclusosi con il sequestro dell'intero complesso del parco acquatico da parte della magistratura. Recenti incontri tra i tecnici incaricati dalla società Cabol Park e funzionari dell'ufficio urbanistico del Comune di Acireale pare abbiano prodotto i risultati sperati e presto potrebbe arrivare l'ok alla riapertura del cantiere a patto che vengono rispettati i parametri di edificabilità a cominciare dalla rimozione del manufatto esistente oggetto dell'aspro contenzioso sfociato in un processo penale lungo e tortuoso che ha causato non pochi danni agli investitori che avevano iniziato e quasi ultimato i lavori attingendo ad un fondo del credito sportivo pare ad un milione di euro oltre ad un esborso personale significativo per l'acquisto all'asta del terreno e le opere accessorie sulla vicenda abbiamo raccolto il parere dall'assessore all'urbanistica Carmelo Grasso disponibile alla trattativa a patto che tutto si svolga nella massima correttezza normativa in Cabol Park vi sono stati frequentemente incontri fra la parte coinvolta e l'ufficio tecnico il dirigente dell'ufficio tecnico io come ho detto in tutte le occasioni in cui sono stati interpellato su questa vicenda l'amministrazione ovviamente è vigile rispettosa dei ruoli soprattutto dei ruoli gestionali se si trovano delle soluzioni gli ultimi incontri sono stati sicuramente incontri profiqui fra i tecnici della parte l'ufficio quindi il dirigente dell'ufficio tecnico che rispettano le leggi ovviamente e che partino dalle sentenze che sull'argomento sono state già depositate l'amministrazione ovviamente non può che essere soddisfatta se il comune evita dei contenziosi e risolve le criticità che sono presenti nel nostro territorio ovviamente sempre nell'ambito del rispetto delle azioni gestionali che sono ovviamente a capo dei dirigenti dei nostri uffici L'urbanistica dialoga adesso con le società con un nuovo sistema informatico questo è un altro aspetto importante guardi nel settore dell'urbanistica stiamo cercando di fare un'attività importante di riordino abbiamo l'ufficio urbanistica ha già esitato il regolamento il nuovo regolamento di rizzo comunale che è stato approvato in giunta ha già esitato il nuovo regolamento sul trasferimento di volumetrie ha già da tempo attivato lo sportello unico e da ieri è attivo finalmente il sistema di prenotazione degli appuntamenti tramite il sito questo è un sistema che oltre a snellire e rendere trasparente le procedure dà ai professionisti e agli utenti la possibilità di rapportarsi con un ufficio che sia efficiente e che dia anche un segno di modernità che è assolutamente necessario anche per ottenere come dicevo prima risultati nell'ottica della trasparenza amministrativa e a proposito di trasparenza ma anche di controllo nella pubblica amministrazione e in particolar modo nel mondo accademico è stato sillato ieri a Catania un protocollo d'intesa tra gli atenei del capologo etneo ma anche di Palermo e Messina con l'assessorato regionale alla sanità i dettagli nel servizio di Guenda Garozzo nuove misure in materia di governance e rafforzamento degli standard anticorruzione di applicazione dei principi di concorrenza e di merito nella selezione dei direttori di struttura complessa sono solo alcune delle novità introdotte dal protocollo d'intesa tra la regione siciliana e le università di Palermo Catania e Messina che punta a migliorare il funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie nelle tre aree metropolitane di riferimento integrando con maggiore efficacia i servizi assistenziali all'attività didattico-scientifica il documento è stato siglato nel capoluogo etneo nella sala conferenza del policlinico Gaspare Rodolico dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e dai rettori Fabrizio Micari Francesco Priolo e Salvatore Cuzzocrea rispettivamente alla guida degli atenei di Palermo Catania e Messina il protocollo avrà una durata triennale contiene alcune novità anche di adeguamento alla rete ospedaliera vigente varata nel gennaio dello scorso anno prevedendo una ricognizione delle strutture e delle unità operative complesse a direzione universitaria già esistenti ed istituite nelle altre aziende del servizio sanitario regionale per le nuove convenzioni invece è previsto un procedimento di autorizzazione assessoriale e di selezione dei primari universitari attraverso l'applicazione dei principi di evidenza pubblica in particolare per la nomina si procederà mediante una selezione che dovrà avvenire attraverso il ricorso ai principi fondanti delle procedure concorsuali in buona sostanza pubblicità e trasparenza massima partecipazione e adeguata motivazione della nomina del primario il documento inoltre estende la possibilità di far ricoprire l'incarico di direttore di struttura complessa anche ai docenti associati vengono introdotte altresì la nomina di una commissione composta dal direttore sanitario aziendale e da docenti esterni all'ateneo del settore scientifico di riferimento la redazione di un elenco di idonei corredato da giudizi individuali di adeguatezza e la nomina del primario previa intesa col manager dell'azienda il protocollo prevede un'azione di autorizzazione di vigilanza da parte dell'assessorato nella stipula di convenzioni per la chiamata di professori e di prima e di seconda fascia e di contratti per il reclutamento di ricercatori tra il personale sanitario già inserito nella dotazione organica dei policlinici viene inoltre affermato l'importante principio secondo cui il criterio dell'organizzazione dipartimentale dei policlinici diventa il modello ordinario di gestione dell'azienda ospedaliera universitaria fondata sul principio di eguaglianza e di parità di coinvolgimento tra dirigenza universitaria e dirigenza aziendale per raggiungere gli obiettivi di assistenza sanitaria rivolta ai cittadini anzitutto ritorna l'era dei concorsi anche nei policlinici io ringrazio tutti e tre i magnifici rettori delle nostre università perché hanno condiviso un percorso che è durato un buon anno di lavoro e che ci consegna un protocollo che mi insegna della trasparenza dell'efficienza e che rende se posso utilizzare questa parola i policlinici universitari luoghi di ricerca e di formazione ma anche dei luoghi di assistenza così come i più grandi ospedali del mondo adesso ad Aci Sant'Antonio dove dieci studenti con disabilità dell'istituto Ferraris di Acideale partecipano al progetto di alternanza scuola lavoro in collaborazione con il comune saranno impiegati negli uffici con l'assistenza di dipendenti comunali ma anche di tutor e docenti da quattro anni l'alternanza scuola lavoro ad Aci Sant'Antonio impegna dieci giovani con disabilità fisiche e cognitive in attività amministrative che vanno dal servizio di centralinista ai lavori pubblici biblioteca servizi ecologici e anagrafe studenti minorenni dell'istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Acereale entrano nell'ambizioso programma unico in provincia di Catania con questo tipo di esperienza tra scuola e municipio collaborazione solidale tra istituti scolastici ed istituzioni che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione e gettare le basi per una futura occupazione di giovani appartenenti alle categorie protette cui spetta un canale preferenziale di ingresso in pianta stabile nella pubblica amministrazione gli studenti saranno seguiti dagli insegnanti di sostegno ed appositi tutor fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso ogni mercoledì dalle 9 a 45 a mezzogiorno il progetto intende dare una risposta appropriata alle esigenze di giovani desiderosi di rendersi utili alla società ed ha già ottenuto importanti risultati di aggregazione è un'iniziativa che apre l'opportunità anche ai ragazzi diversamente abili ad avere una possibilità che è lavorativa perché l'attenanza scuola lavoro e le scuole superiori nasce proprio in quest'ottica di poter distradare i ragazzi che nel futuro possono utilizzare queste esperienze il comune di San Antonio è alla quarta esperienza anche quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare questa possibilità e approfitto per ringraziare anche il dirigente scolastico dell'istituto Ferrares di Acireale e le insegnanti che hanno voluto con forza che questa attività si svolgesse nel nostro comune è un'attività articolata che prevede anche un front office da parte dei ragazzi con la nostra comunità e quindi è anche bello poter vedere che attraverso quella esperienza di cui noi ci stiamo arricchendo perché negli anni abbiamo visto che anche l'attività di questo tipo diventa un arricchimento per tutto quello che è l'attività istituzionale del nostro ente diventa potenzialità per loro e ripeto arricchimento anche per noi quindi una bella opportunità che noi porteremo sempre come un bagaglio importante per la nostra attività amministrativa e per le nostre esperienze il comune di Santa Venerina vicino ai suoi cittadini dall'11 febbraio attiva lo sportello ascolto un'equip multidisciplinare in assoluto anonimato si occuperà dei disagi degli abitanti sentiamo Rosaria Rinaudo dipendenze da alcol e droga gioco d'azzardo e violenza sono tante le famiglie afflitte da problemi simili e spesso sconosciute ai servizi sociali non tutti i genitori possono permettersi le sedute dallo psicologo per i figli in difficoltà e per venire incontro ai cittadini che il comune di Santa Venerina offre un nuovo servizio uno sportello d'ascolto dove ognuno potrà recarsi per chiedere un supporto di natura psicologica avrà sede al municipio e sarà aperto un pomeriggio a settimana si parte martedì prossimo è un momento in cui il comune si fa più prossimo ai suoi cittadini ai singoli individui alle famiglie ai genitori agli adolescenti a tutte quelle categorie che possono versare in uno stato anche momentaneo di disagio e che gratuitamente potranno approfittare di alcune professionalità messe a loro disposizione lo sportello è aperto a tutti gratuitamente sarà presente una psicologa a disposizione delle persone che hanno bisogno vi si potranno rivolgere anche quanti verranno a conoscenza di situazioni di violenza per fare una segnalazione una equipe multidisciplinare composta da psicologi educatori assistenti sociali che ascolteranno quindi le loro istanze e forniranno una guida altamente professionalizzata professionalizzata il comune si vuole fare più vicino ai bisogni di tutti l'ascolto è un momento non solo per affrontare i problemi contingenti ma anche per avere un'idea più chiara dei profili di bisogno che la comunità esprime e da questo fare discendere anche le scelte amministrative lo sportello sarà attivo da martedì prossimo 11 febbraio e per tutti i martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 adesso ad Acicatena dove ha giurato il neoassessore comunale si tratta di Valentina Mangiafico che entra a far parte della giunta Oliveri al posto di Enza Lombardo di Enza Leonardi che si è dimessa si tratta appunto di un avvicinamento interno alla lista la nostra Acicatena e Valentina Mangiafico 41 anni sposata e madre di due figli in età scolastica che il neoassessore alla pubblica istruzione del comune di Acicatena in sostituzione della dimissionaria Enza Leonardi negli equilibri interni alla maggioranza politica non cambia nulla in quanto espressione della lista la nostra Acicatena da sempre vicina al primo cittadino affollata cerimonia di avvicinamento stamani presso la stanza del sindaco dove il neoassessore ha giurato con la lettura della formula sottoscrivendo l'accettazione delle deleghe alla pubblica istruzione servizi demografici edilizia scolastica rapporti con l'università e beni culturali la scuola come principale impegno istituzionale del neoassessore in un territorio dove insistono diversi istituti ubicati al centro e nella periferia con la nomina della Mangiafico le frazioni tornano protagoniste nell'Aggiunto Oliveri la signora Mangiafico infatti è residente nella popolosa frazione di San Nicolò e da tempo insieme al gruppo politico che la sostiene raccoglie le sollecitazioni degli abitanti su questioni di interesse collettivo e l'impegno sarà quello di portare le istanze insieme alla Giunta e all'attenzione del civico consesso nelle dinamiche politiche catenote presto dovrebbero arrivare altre novità però questa volta interne al Consiglio Comunale è stata una scelta ponderata poi ho fatto leva sul fatto che essendo mamma cercherò di affrontare questo percorso con l'apprensione e l'umanità tipica delle mamme però è anche vero che bisogna metterci un po' di professionalità che dovrebbe essere caratteristica principale dell'assessore detto questo ovviamente porterò avanti i progetti che erano già stati iniziati dall'assessore uscente ciò non toglie ovviamente che ci saranno delle nuove idee dei nuovi progetti dei nuovi obiettivi sicuramente che cercheremo di raggiungere al più presto per il sindaco Nello Oliveri che stamane ha augurato un buon lavoro al nuovo assessore dalla sua giunta l'impegno di porre maggiore attenzione alla questione dell'edizia scolastica e iniziative volte a favorire la cultura tra i giovani del territorio semplicemente un avvicendamento avvenuto per lo meno all'interno della stessa formazione politica l'assessore uscente l'assessore Leonardo si è dovuta fermare per motivi propri suoi e quindi io ho ritenuto opportuno dare continuità a quel progetto politico che è stato intervreso assieme alla coalizione e ho chiesto alla stessa lista di indicare una rosa di nome di cui io potrevo poi sceglierne qualcuno da rinominare e la scelta è ricaduta sull'assessore Valentina Mangiafico che ho nominato qualche minuto fa le auguro veramente un buon lavoro e sono sicuro che ciò avverrà voglio ringraziare l'assessore uscente e l'assessore Leonade per il lavoro che è fatto e per il contributo che è dato a questa città e che la stessa nel momento in cui avrà a disposizione un pochino di tempo continuerà anche senza nomine istituzionale a collaborare con questa amministrazione i Cavalieri Templari tra cultura e solidarietà un'iniziativa che anche a Catania riscuote ancora consensi guardate il PTHM dei Templari è un'organizzazione di fedeli cristiani laici che richiama la tradizione cavalleresca cosmopolita indipendente e da politica l'obiettivo primario dell'ordine è ispirato a San Michele Arcangelo e l'impegno nella carità e nella cultura per costruire condizioni di vita più giuste presente in Italia e all'estero l'organizzazione senza scopo di lucro è attiva anche a Catania noi vogliamo essere oggi uomini moderni dai valori antichi cioè vogliamo realizzare nella vita di tutti i giorni quelli che furono gli antichi valori dei Cavalieri del Tempio come fare? attraverso le nostre due finalità statuarie che sono esclusivamente cultura e solidarietà il priore spiega il senso della cristianità in questa istituzione la cristianità la parola del Cristo che io amo sempre ripetere e avere come punto di riferimento il Cavaliere perfetto a 360 gradi con tutte le chiese di carattere cristiano i Cavalieri Templari che si ispirano alla regola di San Bernardo di Chiaravalle indicano con il termine capitolo l'incontro di tutti i Cavalieri e le Dame durante il capitolo dei Cavalieri Templari si procede alle investiture di nuovi membri alla elevazione di grado e si determinano i programmi delle attività noi organizziamo come PTHM diverse attività culturali anche qui la cultura a 360 gradi all'interno di noi ci sono importanti musicisti accademie musicali e quindi dall'arte dalla letteratura dalla poesia alla musica financo ogni manifestazione culturale è finalizzata un evento di solidarietà abbiamo organizzato degli eventi a favore dell'ospedale Meyer di Firenze per reparto di oncologia pediatrica lo stesso per l'ospedale di Napoli sempre per reparto di oncologia pediatrica e altre numerose iniziative che sono tutte documentabili in attesa del nuovo capitolo internazionale a Catania l'incontro alla Cappella Buonaiuto interessante convegno qui nella Cappella Buonaiuto a Catania è una delle tante nostre manifestazioni culturali che noi rappresentiamo su tutto il territorio nazionale la nostra è un'organizzazione anche internazionale che abbraccia totalmente la cristianità ovvero l'ecumenismo abbiamo precettorie nel Galles e abbiamo precettorie a Londra e un po' in giro dappertutto quindi come ben sappiamo proprio in termine di ecumenismo la Chiesa d'Inghilterra ha le porte aperte con noi è tutto per questa edizione del nostro telegiornale non ci sono infatti altre notizie ma vi ricordo che potete riseguirla su internet sul nostro sito l'indirizzo lo vedete in sovraimpressione ma anche sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook nuovo appuntamento in diretta con la seconda edizione di Ola DG questa sera alle 19.45 adesso vi lascio al metro e poi alla programmazione della rete grazie per averci seguito sin qui a voi tutti buon proseguimento e buon pomeriggio sole e nubi minacciose lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani giovedì 6 febbraio il cielo nel complesso sarà sgombero da nubi anche se non si escludono precipitazioni a carattere temporalesco i venti saranno sostenuti i mari agitati uno sguardo adesso alle temperature si mantengono pressoché invariati i valori rispetto alla giornata odierna sul capoluogo etneo previste una minima ed una massima rispettivamente di 5 e 12 gradi centigradi la temperatura più alta nel siracusano con 13 gradi mentre quella più bassa adenna con meno 2 gradi centigradi a a a